Noi vediamo nel Cardinale la testimonianza di un uomo che ha fatto tanto per la Chiesa in situazioni diverse, con gioia e con lacrime. Ma la testimonianza oggi forse a me sembra più grande che ci dà è la di un uomo ecclesialmente disciplinato. E questa è una grazia che ringrazio lei, Signor Cardinale. Grazie.